Ennesima sconfitta consecutiva per la GRM in fissi Club Arezzo, questa volta una sconfitta che arriva per mano del volley Arezzo in un sentito derby. Una sconfitta è una prestazione che mette in luce tutte le difficoltà che attraversano da qualche giornata i ragazzi della Serie C del Club Arezzo e all'indomani della sconfitta sono arrivate le dimissioni anche dell'allenatore Mirko Morelli. Inizio di partita roseo per Club Arezzo che fa vedere un ottimo gioco nel primo parziale e porta a casa il set 25-14. Tutto sembra scorrere liscio ma come negli ultimi impegni qualcosa si rompe nell'ingranaggio, la squadra comincia a soffrire e l'assenza di scortecci pesa anche se sostituito da un ottimo Maggini. Gli avversari sono bravi a lottare su ogni pallone e conquistano il secondo e terzo set combattendo 25-22, 26-24. A solo del volley Arezzo nel quarto set i padroni di casa sono decisi a conquistare la vittoria cotonda e ci riescono portando a casa il parziale finale con un netto 25-14. Amaro in bocca in casa Club Arezzo la formazione del presidente Mattioli non riesce ad uscire dalla crisi di risultati. I ragazzi sono giovani, vanno sempre spronati, tendono sempre a perdere un po' la testa, non esageriamo, però è bello averli proprio perché sono giovani. Ci alleniamo e giochiamo cinque volte alla settimana, sabato e domenica. Ultimamente abbiamo fatto partite sia sabato che domenica nell'Under-19 e comunque anche in Serie C. Per cui meravigliosi, non mancano mai all'allenamento, sono sempre presenti. Merito mio direi assolutamente merito loro.